La vicenda Sherby One Jesus Dillinger vola Sai che è un sito di uno? Ah già, non hai parlato di Dillinger Falla la marchettina Ho aperto il sito giornalistico più importante che c'è in Italia Facciamo 6 milioni di dashboard 2 milioni e mezzo di utenti unici E già vale un sacco di soldi Allora, ieri io personalmente sono entrato nella polemica di One Jesus Ok? Censura Ma perché? Allora, noi in media prendiamo 2000 follower al giorno Sariamo In scioltezza Ieri con la roba di One Jesus Ho aperto 5 mila follower Ti giuro, te lo giuro 5 mila follower Ho perso 5 mila follower Cosa succede? Tu non segui il calcio Perché non te ne frega un cazzo La partita del Banda metropolitana tra l'Inter e la Tertiuma Ti insegna una cosa Quello è lo stadio più importante del Moche Entri lì e vedi 120 mila satanati Che ti urlano E vedi questi 11 giocatori caricati da 110 mila satanati Che ti urlano dietro a fare come i pazzi E il capitano di questi satanati è quel criminale di Savic Savic è tipo Putin Noi Savic giocava nella Florentina grande Quante botte gli ha dato a tutti quanti Alla fine tu ram C'è la scena finale Gli prendi i coglioni Sì sì ho visto Ma poi ridono No? Cioè ridono no? Ok Allora Juan Gesù giocava nell'Inter Se a un certo punto tu litighi Perché quando Tu non lo sai cosa succede in campo Io seguo il calcio Vaffanculo Pezzo di merda Per farle innervosire Si usano queste cose qui Ma cazzo Non so magari A Zaccagni Gli dicono Ma la Nasti Ti provoca Per portarti l'espulsione A quella roba lì Se a un certo punto Liti liti E tu usi Questo è il problema La parola Oh neretto Dai Neretto Su Smettila Dai neretto Neretto Smettila Smettila E questo Incomincia A fare Batti beccare Nel socialmente Corretto Non li può dire Neretto in campo A meno che Non gli ha veramente Detto negro O negro di merda In modo dispregiativo Ma Se gli avesse detto Negro di merda In modo dispregiativo Juan Jesus Come tutti i casi Che sono successi Ne riporto due Quelli più popolari Boateng Che prende la palla Lancia in tribuna Maignan Che lascia il campo Se te lo dici Un giocatore Peggio Tu vai Esci Te ne vai dal campo Va a lavar Leggi la bianca Lo cacci Invece Continuato a giocare Fino della partita Bracci Questo cosa vuol dire Questa è stata la mia teoria Al di là di quello Che è stato detto Che nel campo rimane lì Se te non te la prendi No? Perché In America Whatsapp nigga Tu sei stato In America Si chiamano così Però tra di loro Tra di loro Però il termine negro Anche lì Io ho degli amici neri Li chiamo negro Le chiamo negro E come tu lo dici E come tu lo dici Se in senso dispregiativo Non in senso dispregiativo Non è il concetto Della parola Tu non puoi bandire La parola Ma devi bandire L'etimologia E l'eccezione Del modo in cui Dici la parola Comunque la partita Finisce lì Poi lo intervistano A Cervi paraculo Ma no Non gli ho detto niente Ha negato Ma perché è rimasto in campo E perché doveva andare in nazionale Ma tu non ti metti a fare un post Da piagnina Su Instagram Su Instagram Raccontando questa storia Perché questo è esattamente Come l'infame Che denuncia qualcuno Juan Jesus Si è comportato L'infame Poi ora Pagherà le conseguenze Ci saranno Processi Lui prenderà 15 giornate iscritti E' una multa Se dimostreranno E questo è vero Ma è una cosa Che doveva rimanere lì Quindi per me A Cervi ho sbagliato Ma Juan Jesus Ha fatto una fagura Di merda Grossale E poi Nero nero No Senti Prima di Prima di Con il bianco No no Bene No no Ma fattilo C'è